Salve, sono Francesco Marchetta, è la classe seconda CIL dell'Iceo Musicale Delfina Maccherita di Palermo. Partecipo a un posto Fianco Music con il gruppo musica della camera. Lui è Giovanni Manno, lei è Asi Asportaro. E seguiremo un brano di Filtras, Madrash. Io suonerò il Filtrasmo, Giovanni suonerà la Morimba e Maitreasia suonerà la Tata Siera. Buon ascolto! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.